Buongiorno, stiamo andando adesso al Consiglio GAI, speriamo che la direttiva venga approvata dagli Stati perché è necessario mostrare la solidarietà dell'Europa e quindi davvero i numeri sono elevatissimi quindi bisogna assolutamente che ci sia una linea decisa anche per verificare laddove trascorsi 90 giorni e quindi quando ci sarà l'esenzione visto la necessità di avere una certezza sull'iter che dovranno seguire coloro che arriveranno nei paesi europei. Quindi è importante, oggi è una riunione molto importante. L'Italia ha qualche riserva? Assolutamente no. L'Italia ha sempre detto che occorre un'Europa solidale e quindi è questa l'occasione per dimostrarla. Da un punto di vista logistico l'Italia sta preparando qualcosa, arriveranno decine di migliaia, forse anche centinaia di migliaia di persone. L'Italia è abituata a gestire situazioni anche emergenziali, quindi tramite la rete delle prefetture, con il mondo dell'associazionismo, con i comuni, faremo fronte a tutte le necessità che si presenteranno. Grazie.